Senza ombra di dubbio sottolineare il ruolo di fondamentale importanza svolto da questo centro è per noi di rilievo. In particolar modo abbiamo avuto modo di parlare direttamente con una giornalista che ci ha raccontato per l'appunto come percepisca fortemente questo supporto che proviene dal centro di coordinamento, soprattutto a livello locale, quindi riteniamo che sia importante sottolineare questo aspetto. In particolar modo uno degli argomenti che sono stati affrontati ha avuto a che fare con il metodo che viene impiegato da questo centro di coordinamento per svolgere le attività di monitoraggio e di analisi delle minacce a cui sono esposti i giornalisti. Un aspetto importante e interessante è il fatto che i dati raccolti da questo centro e su cui si basa appunto il metodo messo in atto dal centro si basano sulle denunce ricevute dagli organi di polizia e questo è importante perché dobbiamo chiederci inevitabilmente se le denunce che arrivano alla polizia di fatto riflettano quella che è la situazione reale. Quello che abbiamo notato è che in diversi paesi dell'Unione Europea il rapporto che intercorre tra la polizia e i giornalisti è spesse volte molto fragile e ne sono testimonianze ad esempio gli arresti che avvengono magari nel corso delle dimostrazioni. è molto importante pertanto portare avanti un'attività di monitoraggio che prenda in considerazione queste situazioni e questi casi.